Ciao a tutti qui in Sanitabile, mi trovo a Caraiola con il signore, sono amici miei storici, diciamo che è un buon una casa per me. Io vi ringrazio come sembra dell'accoglienza, stasera c'è una festività molto importante e emozionale, quindi un momento di aggregazione, un momento di festa, come quello che abbiamo visto. Pace e buona ossa.